Siamo Giovanna, io ho iniziato a fare scherma in questa società, ho iniziato ad avere un sogno che era quello di poter partecipare all'Olimpiadi e di vincere. Ho fatto un impegno, un fatticcio e un divertimento. Ciao a tutti, siamo Pesta Cimona e da tre anni adesso mi alleno nel circolo degli ETI, insomma di fare l'Olimpiadi e ovviamente il sogno è quello di partire a un evento come l'Olimpiadi che è il sogno più grande per un atleta e magari anche di vincere sicuramente. Ciao, io mi chiamo Ariane e mi chiamo della Liguria. Io mi chiamo Marco e sono della Sicilia, Mazzara del Vallo. Siamo molto felici di essere qui, ci stiamo allenando bene. Io lavoro dietro le quinte e molto, soprattutto le emozioni che sono difficili da gestire, però pian pianino si riesce. L'Olimpiadi e ormai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti